Con le ondate di maltempo che ripetutamente flagellano anche la nostra provincia, assieme all'acqua e ai detriti anche la fauna subisce pesanti conseguenze, come la comparsa in città del gambero della Louisiana, il cosiddetto gambero killer dei fossi e delle risaie che con la comparsa massiva qualche anno fa anche nei nostri territori aveva creato grossi problemi alla stabilità delle sponde dove crea la sua tana e alla fauna etica locale. Un nostro telespettatore ci ha inviato un video che testimonia come anche lungo i fossi che costeggiano strada Bertesina arrivino anche in città questi aggressivi crostacei trasportati dai fiumi e dai canali che trascimano.